Ragazze, non so se è il caso. Hai paura di scoprire cosa pensa davvero il tuo Rama? Non è questo, Tefi. Già pensano che non ci fidiamo, se lo scoprono è la fine. Rilassati, se ne accorgeranno. Fatto. Brava. Shh, shh, arrivano! Via, via! Sfrigati, dai! Davvero credi di riuscire a battermi, ma fammi il piacere? Ci puoi scommettere, ti faccio vedere io. Dai, dai. Vediamo un po'. Sì, aspetta, aspetta, non vedo, ecco. Ehi, che bel casino tra Marti, Ago e Simone. Beh, possiamo spegnere. No, 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 aspetta. Beh, Mara ha esagerato. Sì, ma secondo me non l'ha fatto apposta, non è colpa sua, è una brava ragazza. Beh, ma è anche molto carina. Certo, non è come la sorella, perché Tefi è davvero... Hai ragione, Tefi è molto carina. Ehi, che fate, li state spiando? Sta parlando di me? Sì, sì, sto parlando di Caridad. Non si rende conto che le sto dando l'opportunità di stare con una persona veramente importante. Pensate a come sarebbe la sua vita senza di me. Adesso lo vedrai, brutto caffone. No, ma carità, dai, fermati. Buona. Dai, Nacio, non prendertela, non ne vale la pena, sono tutte uguali. Credo che stia parlando di te. Segna. No, non credo, no. Non dovresti avercela così tanto con Mara. No, hai ragione, non è colpa sua, poverina, è che è limitata. Di gambe, forse? Di gambe? No, di cervello, con le gambe se la cava bene. Avete presente il gatto? Cade sempre in piedi. No! Ti ha dato del gatto e della stupida. Cacchi ha detto limitata, non stupida. Ah, giusto, devo picchiare. No, 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 ti devo smettere. È un'isterica. Benvenuto nel club, qui sono tutti isteriche. Già. E poi non si fidano, è il comune denominatore del loro gruppetto. Ora me lo farò. No, no, no. Il vostro problema è che date troppe libertà. Guardate Jasmine, per esempio. È la più isterica di tutte, ma io riesco a domarla. La contento. Eh no, questo è davvero troppo. No, no, no. Ma che... Vado a farmi una doccia, chi vuole giocare? No, non io. Non guardate. Basta. Perché parlano a voce bassa? Staranno parlando male di te? Secondo me sì. O forse stanno parlando di te. Magari Luca ha detto che sei isterica e illimitata, che ne sai? Ma questo è quello che ha detto Simone di te. Ma è tutto vero, non vi ricordate? Sì, sì, ci ricordiamo. Senti Jasmine. Aia, che maldestra. No, scusa, no, volevo solo chiederti. Che ti ne hanno fatto? Poche se ne sono andati, no? Quando tornano? Non è che per caso ci hanno scoperto? Ma certo. Hanno scoperto la telecamera, per questo parlano male di noi, no? Se è così non mi farò vedere per un mese intero. Ehi, dov'è Anna? Ehi, dov'è Anna? Ma chi ti credi di essere, entri come se fossi il padrone di casa. Senza neanche bussare. Non ho altra scelta. Hai una bella faccia tosta. Ho le prove con i mani oggi. E a me non diverti affatto vedere la tua di faccia. L'hai sentito? Come ti permetti? Ma lo sai che sei malato? Proietti tutte le cose che ti succedono su di me. Faccia da schiaffi. Non provocarmi, Tiago. Altrimenti che fai? Ho capito, devo andare subito a fermare. No, 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 resta qui. Sai che ti dico? Te la regalo. Te la regalo. Guarda che Mar è già regalata. È mia. Ma se vuoi... Prenditela. Non mi piacciono le isteriche.